Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Clavia Marcelli, attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Finché saremo al mondo non potremo essere senza tribolazioni e tentazioni. Infatti sta scritto nel libro di Giobbe che la vita dell'uomo sulla terra è tutta una tentazione. Dunque ognuno dovrebbe stare attento alle tentazioni e vigilare in preghiera affinché il diavolo non trovi il punto dove possa esercitare il suo inganno. Il diavolo che mai non posa ma va attorno cercando chi possa divorare. Nessuno è così avanzato nella perfezione e così santo da non aver talvolta delle tentazioni. Andare esenti del tutto da esse non possiamo. Tuttavia, per quanto siano moleste e gravose, le tentazioni spesso sono assai utili perché, a causa loro, l'uomo viene umiliato, purificato e distruito. I santi passarono tutti per molte tribolazioni e tentazioni e progredirono. Invece, coloro che non seppero sostenere le tentazioni si pervertirono e tradirono. non esiste un'istituzione così perfetta o un luogo così nascosto dove non si trovano tentazioni e avversità. L'uomo non è mai del tutto esente finché vive. Ciò per cui siamo tentati è dentro di noi, poiché siamo nati nella concupiscenza. Se viene meno una tentazione o tribolazione, un'altra ne sopraggiunge e c'è sempre qualcosa da sopportare perché abbiamo perduto il bene della nostra felicità. Molti, di fronte alle tentazioni, cercano di fuggire, ma poi cadono in esse ancora più gravemente. Non possiamo vincere semplicemente con la fuga, ma è con la sopportazione, con la vera umiltà che saremo più forti di ogni nemico. Ben poco progredirà colui che si allontana un pochino e superficialmente dalle tentazioni senza sradicarle. Tosto ritorneranno ed egli sarà ancora peggio. Vincerai più facilmente, a poco a poco, con una generosa pazienza e con l'aiuto di Dio, più facilmente che insistendo cocciutamente nel tuo sforzo personale. Accogli frequentemente il consiglio degli altri quando sei nella tentazione e non essere aspro con colui che è tentato, ma dagli conforto come desidereresti fosse fatto a te. Causa prima di ogni perversa tentazione è la mancanza di stabilità spirituale e la scarsezza di fiducia in Dio. Già che, come una nave senza timone, viene spinta qua e là dalle onde, così l'uomo infiacchito, che abbandona i suoi propositi, viene in vario modo tentato. Come il fuoco serve assaggiare il ferro, così la tentazione serve assaggiare la santità di una persona. Quali possibilità ciascuno abbia in potenza spesso non lo sappiamo, ma la tentazione dispiega palesemente ciò che siamo. Tuttavia bisogna vigilare, particolarmente intorno all'inizio della tentazione, poiché il nemico si vince più facilmente se non gli si permette per nulla di varcare le porte della nostra mente e se gli si sbarra la strada al di là della soglia non appena abbia bussato. Di qui il detto, resisti agli inizi, è troppo tardi quando si prepara la medicina. Tratto da Ovidio, Remedia a Morris, secondo libro, capitolo 91. Infatti, dapprima viene alla mente un pensiero semplice, di poi una forte immaginazione, infine un compiacimento, un impulso cattivo e una quiescenza. È così, piano piano, che il nemico malvagio penetra del tutto, proprio perché non gli si è resistito all'inizio. E quanto più a lungo uno ha tardato torpidamente a resistere, tanto più si è via via interiormente indebolito, mentre il nemico è andato crescendo di forze contro di lui. Alcuni sentono le maggiori tentazioni al principio della loro conversione a Dio, invece altri alla fine. Alcuni sono fortemente turbati pressoché per tutta la vita, altri sentono tentazioni piuttosto lievi, secondo quanto dispongono la sapienza e la giustizia di Dio, le quali pesano la condizione e i meriti di ciascuno, preordinando ogni cosa alla salvezza degli eletti. Perciò non dobbiamo lasciarci cogliere dalla disperazione quando siamo tentati. Invece dobbiamo pregare il Dio ancor più fervorosamente, affinché si degni di aiutarci in ogni tentazione. Lui che, in verità, secondo quanto dice Paolo, farà in modo che la tentazione sia accompagnata dai mezzi per poterla sopportare. Abbassiamo dunque in umiltà l'anima nostra sotto la mano di Dio quando siamo tentati e tribolati, già che il Signore salverà gli umili di spirito e li innalzerà. Quanto uno abbia progredito si dimostra nella tribolazione e nella tentazione. Qui sta il suo maggior merito, qui appare più chiaramente la sua virtù. Non è gran cosa essere devoti e fervorosi quando non si hanno difficoltà. Invece saper sopportare se stessi nel momento dell'avversità dà a sperare in un grande avanzamento spirituale. Avviene che alcuni sono al riparo da grandi tentazioni, ma spesso sono sconfitti nelle piccole tentazioni di ogni giorno. E così, umiliati per essere caduti in cose tanto da poco, non ripongono più fiducia in se stessi, nelle cose più grandi.